Gentili telespettatori, buona giornata. Giuseppe Conte dice che Meloni è Lady Tax ed è ossessionata da me, dice Conte, ma non deve pensare a me, ma deve pensare ai poveri perché il voto alla manovra è zero virgola, ha tassato pure le culle, deve pensare ai poveri non a me, dice. Poi per quanto riguarda il famoso campo largo, dice niente fusioni a freddo e sulla pace serve più coraggio. Caro Conte, lui in questi ultimi tempi cavalca tutte le piazze per la pace. Allora, vorrei dirvi, se non lo sapete, che tutti sono per la pace, sono rare le persone che incitano a fare guerre, tutti sono per la pace. Però c'è da dire una cosa, andare in piazza con la bandiera della pace e gridare pace non risolve i conflitti. I conflitti vengono risolti dai politici o dai militari, o da tutte e due. Non è mai esistito un conflitto risolto con una piazza organizzata da qualche parte. Non so se vi ricordate Zacchi, l'ingrato, quello che è stato liberato dalla Meloni. Per anni la sinistra ha fatto piazze cartonati, bandiere esposte sui balconi. Zacchi libero! A che cosa è servito? A niente. A niente. La Meloni ha preso e l'ha fatto liberare parlando col presidente egiziano, su sua esplicita richiesta. Quindi è per farvi capire che i conflitti, i liberazioni, si risolvono con l'intervento delle parti. E le due parti devono essere d'accordo, se no non arrivi da nessuna parte. Organizzare una manifestazione a Milano, a Roma, con lì mille, duemila, ventimila persone, quello che volete, serve a far finire i conflitti nel mondo? Assolutamente no! Qual è l'effetto? Nessuno, i protagonisti del conflitto, neanche lo sanno che c'è stata una piazza con le bandierine. Quindi il fatto di Conte che fa e organizza le piazze per la pace è solo propaganda. Lui utilizza tutto, qualsiasi fatto, per propaganda. Pertanto parlare di diritto internazionale, diritto a difendersi, no, non devi difendersi, proporzionata reazione, sproporzionata, piazza, ci vuole coraggio in piazza. Sì, ma Conte, la tua piazza, le tue piazze per la pace, servono solo a raccattare voti tra quelli che si definiscono pacifisti. Ma siamo tutti pacifisti, non c'è nessun guerra a fondaio. E' che per fare la pace bisogna essere in due. Il porgi l'altra guancia o fai finta di niente è solo stupidità. Non è essere pacifista. Se uno ti dà una sberla e tu dici, dai, dammi anche dall'altra parte, o comunque io non ti rispondo e te ne do un'altra, io non ti rispondo. Quella è stupidità, non è pacifismo. Perché, vabbè, poi entriamo qua in un discorso abbastanza lungo, comunque le piazze di Conte sulla pace sono solo ed esclusivamente propaganda per tirar su voti. Ma lui continua a dire che ci vuole coraggio. Sulla pace bisogna avere più coraggio. Ma coraggio di che co? Cosa vuol dire? E' una frase che non ha senso. Sulla pace bisogna avere più coraggio. La pace la devono fare quelli che stanno litigando. Tu da esterno dici ci vuole più coraggio. Non vuol dire assolutamente niente. E così, appunto, Conte rimarca alla distanza dal PD di Schlein, perché la Schlein sta lontana dalle piazze pacifiste, perché le piazze pacifiste, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, diventano delle piazze di parte con slogan, bandiere e con cose che vengono dette che risultano inaccettabili. Quindi la Schlein dice che chi del PD sarà in piazza lo farà a titolo personale. Non esiste una delegazione ufficiale del PD che va in piazza, perché poi la piazza per la pace diventa una piazza di parte, con bandiere di parte. E slogan di parte. La piazza per la pace diventa una piazza di una tifoseria di parte. Chiaro? E qui elle Schlein l'ha capito bene. Qui dice, caspita! Eh sì, la Schlein l'ha capito bene e ci sta lontana dalla piazza di questo tipo. E che poi Meloni sia ossessionata da Conte, parliamoci chiaro, Conte sta facendo questo giochino. Attacco tutti i giorni Meloni in modo che Meloni mi risponde e dopo che mi rispondi dico sei ossessionata da me. Eh no, la Meloni ti sta rispondendo perché non ne può più dei tuoi continui attacchi giornalieri che sono fatti proprio per provocare la Meloni con una risposta e poi dire che la Meloni ce l'ha con me. Eh? Ma che t'ho fatto Giorgia, perché ce l'hai con me? Eh? Ma quella era che t'ho fatto Arianna, perché ce l'hai con me? Era la sorella. Quindi, la Meloni non è ossessionata da te, ma sei tu che stai facendo il giochino. Le piazze pacifiste sono delle piazze per raccattare voti in quell'ambiente lì. Meloni Lady Tax, tassa pure le culle perché ha tolto gli sconti per il l'aliva, per il latte in polvere, queste cose qua. La Meloni dice che non hanno funzionato, non hanno funzionato questi tagli, sconti. Quindi, poi non so esattamente che cosa non ha funzionato, nel senso che se voi siete andati a comprare il latte in polvere e al posto che pagarlo 10, l'avete pagato 9,2, l'avete comprato, avete risparmiato. Sinceramente non ho capito quando la Meloni ha detto che queste cose non hanno funzionato. Puh, non lo so. Se tu tagli l'IVA sui prodotti per l'infanzia, la gente quando compra quei prodotti li paga di meno. Se tu dici che non ha funzionato, che cosa vuol dire? Che non l'ho capita, però. Quindi, sono state tolte queste cose per prendere quei soldi e concentrarli poi sull'abbassamento delle tasse, IRPEF e Cuneo Fiscale. Grazie a tutti e arrivederci a presto.